Il percorso che stiamo facendo è che abbiamo bisogno di energia, di motivazione, di consapevolezza di quello che dobbiamo fare in campo, anche con squadre attrezzate come il Venezia. E quindi di conseguenza è venuta fuori la partita che volevamo, al di là del risultato, perché è importante in questo momento che tiriamo fuori sempre una prestazione alta. Quindi spero adesso anche contro la Ternana di andare lì con personalità, con capabilità, con voglia di portare a casa il risultato. Mister, si arriva, come dice il collega, giustamente carichi da quella che è una vera e propria impresa, da una partita straordinaria, però si arriva anche con qualche acciacco di troppo. Una squadra che forse sembra un poco in affanno dal punto di vista fisico. Ci dice lei com'è la situazione? Eh sì, questo è qualcosa che mi dispiace tantissimo, perché comunque a Ghionna, ad Andrea, insomma vediamo adesso le condizioni di Ambrosino che un po' ci preoccupano, perché comunque ha preso una botta dietro la schiena con molta violenza e gli ha causato questo versamento sul bicipite femorale. Stiamo valutando, abbiamo fatto risonanza, ma ancora non si riesce a vedere bene. Stiamo valutando adesso con lo staff medico di vedere altri esami per cercare proprio di capire l'entità del problema. Quindi siamo un po' in ansia, perché comunque in questo momento qua è un discorso che ho fatto anche a tutta la squadra stamattina. Siamo tutti, tutti indispensabili. Dobbiamo essere bravi adesso a tirar fuori il meglio di noi, quindi se perdiamo dei ragazzi insomma mi dispiace tantissimo. Proprio a questo riguardo le chiedo questo. Fermo restando che per carità è importantissimo mantenere giustamente sempre l'attenzione al massimo livello, però forse non sarebbe il caso di rallentare un attimo magari in attesa poi di spararsi tutte le cartucce nei playoff. Da questo punto di vista lei dice che è necessario tenere questa tensione anche in queste partite? Allora, calcio è una bella materia, nel senso che quello che si fa abitudinalmente si riesce ad ottenere poi durante la partita. Se uno è abituato a lavorare sempre in quel modo lì non fa fatica a lavorare in quel modo lì. C'è un adattamento diciamo alle cose che bisogna fare durante la partita e se ti adatti riesci poi a sviluppare sempre quelle cose. Nel momento in cui abbassi un po' la prestazione di conseguenza viene meno anche poi, non è che la domenica accendi la radio e comincia a... Non mi riferisco alle prestazioni, mi riferisco magari a un turnover un po' più importante. Ma il problema è che anche lì, voglio dire, noi cerchiamo sempre di centellinare un po' tutto alla situazione, difficilmente arriviamo a dei carichi troppo alti per tutti. È chiaro che stiamo facendo girare, abbiamo cercato di evitare dei problemi sotto l'aspetto dell'affaticamento. Però non è quel problema, dobbiamo pensare comunque sempre a mantenere la prestazione alta, dobbiamo sempre dare il massimo di noi e comunque le scelte poi è chiaro che con cinque campi riusciamo sempre un po' a gestire le energie, qualcuno magari va sotto stress, vediamo un attimino anche di farlo riposare magari prima della fine. Ma guarda, io penso che per un allenatore che ha delle idee e che ha un progetto tattico diciamo in testa, nel momento in cui lo vede realizzato e lo vede sviluppato anche dai giocatori, perché comunque qui c'è una consapevolezza di tante cose da fare in campo che loro oramai hanno acquisito e magari se c'è qualcuno fuori posto sono loro stessi che si riescono a sistemare. Questo ti dà l'idea di quanto è importante dare tempo a un allenatore, dare tempo a un progetto tattico di realizzarsi. Purtroppo in Italia è molto raro questo, difficilmente le società danno tempo, difficilmente vogliono tutti il risultato subito. Io mi ricordo anche quando sono arrivato qui a Catanzaro il primo anno, cioè è chiaro che si voleva subito dalle prime partite avere una squadra che cambiasse totalmente il progetto tattico, cosa che non si fa così. Ci vuole il tempo, ci vuole il lavoro, soprattutto applicazione dei giocatori, quindi di conseguenza qui bisogna fare veramente un plauso altissimo a questi ragazzi che giornalmente si applicano per cercare di avere quegli obiettivi che abbiamo visto poi domenica. Io dove ho avuto la possibilità di lavorare, anche a Teramo sono stato tanto e anche lì abbiamo fatto delle cose straordinarie perché eravamo una squadra con pochi soldi, con grandi idee e qui chiaramente ancora di più, quindi di conseguenza speriamo di raggiungerli. Mister, la Ternana domani è quasi all'ultima spiaggia, ballano fra la possibilità di andare ai play-out e la retrocessione diretta, quindi sarà un avversario che forse avrà motivazioni, cioè sicuramente avrà motivazioni altissime, una squadra anche molto diversa rispetto a quella affrontata battuta all'andata, alla seconda giornata, come diverso anche il Catanzaro. Le chiedo che cosa la preoccupa di più di questa sfida. Guarda, la cosa che dobbiamo essere attenti è non ascoltare nessun tipo di discorsi, nessun tipo di voci, loro avranno grande motivazione come ce l'aveva il Venezia, io ve l'avevo detto giornate fa che sono tutte partite queste ideali per noi, per cercare di mantenere la tensione alta, i ritmi alti e la prestazione di livello assoluto, quindi noi ci dobbiamo un attimino tappare le orecchie, spingere al massimo, dare il meglio di noi per portare a casa il massimo risultato. È chiaro che troviamo una partita sotto l'aspetto ambientale diversa dalle altre. Diceva giustamente partita diversa da quella che è l'andata, però la partita dell'andata è stata forse una delle partite più sofferte del Catanzaro, che io ricordo, insomma la Ternana all'andata mise in qualche difficoltà il Catanzaro, poi il Catanzaro trovò quella magia di D'Andrea, riuscì a vincerla. Insomma quindi una partita come tutte per altre di questo campionato da prendere appunto con la dovuta attenzione, anche perché la Ternana forse insomma in termini di valore assoluti sicuramente non è da posizione in classifica attuale. Ma guarda, qua tutte le squadre sono attrezzate bene, per esempio ha degli attaccanti di livello assoluto, perché comunque a me Raimondo piace tanto, Favilli, sono giocatori diciamo che hanno Gaston, ma anche a centrocampo, Luperini, sono giocatori forti per la categoria, Amatucci che bene o male l'avevamo seguito anche noi, un ragazzo di grande qualità, grande tecnica, il Lucchesi là dietro, insomma sono ragazzi tutti veramente interessanti. No, noi all'andata chiaramente abbiamo fatto fatica magari a trovare il secondo gol, ci è voluto veramente un'invenzione di D'Andrea, perché non riuscivamo magari a trovare la via del gol, perché loro si chiudevano molto molto bene, però la prestazione l'avevamo fatta nel modo giusto, e poi ecco, poi alla fine contano sempre i giocatori che è a disposizione. Domani riavrà a disposizione Situm, rientro importante, non avrà però Sunas che sta facendo delle partite bellissime una dopo l'altra, una dietro l'altra, che è fondamentale nella fase di sviluppo dell'azione sempre nel Catanzaro. Sì, ma dobbiamo farli ruotare, prima l'abbiamo detto, dobbiamo far respirare, insomma è giusto anche che magari Sunas si riposa, che Situm abbia avuto un turno di riposo, insomma perché comunque sono ragazzi che stanno spingendo tanto e devono anche avere un po' di respiro. Ed è poi importante anche la valutazione di altre soluzioni in quel ruolo lì, perché comunque abbiamo perso D'Andrea e adesso dobbiamo valutare un attimino meglio Stoppa, dobbiamo valutare Oliveri anche un po' più alto, dobbiamo lavorare, abbiamo anche Brignola da, voglio dire, da vedere, quindi è chiaro che in questo momento quale soluzione le abbiamo anche in quel ruolo. Brignanti sta quasi riprendendo, può darsi che da lunedì si riaggrega con la squadra, quindi questo è una buona notizia. Io l'ho già chiesto mercoledì, poi per me abbiamo finito, Donnarumma quanto l'ha caricato, insomma il fatto di essere entrato, aver fatto la giocata che poi ha deciso la partita di fatto, in questi giorni. No, ma non è quello che ha fatto, è quello che dovrà fare da qui alla fine, perché comunque un giocatore di un'esperienza come lui e di una qualità come lui, secondo me in queste partite, dove effettivamente conta personalità, conta qualità, e secondo me ci potrebbe dare una mano da qua alla fine.